Lo scorso dicembre, prima di un temporaneo abbandono della casa del grande fratello dovuto ai problemi di salute del padre, Beatrice Luzzi aveva discusso della durata e dell'eventuale conclusione dello show. In una conversazione con Greta Rossetti, l'attrice di Vivere aveva espresso, spero ci comunichino la durata dello spettacolo in modo da poter valutare le opzioni. Vuoi dire che lo annunceranno dopo le vacanze? Tuttavia, se vedi un accenno, allora indica. Tuttavia, ieri, Luzzi ha sorpreso i suoi fan annunciando la sua prossima uscita dal grande fratello mentre augurava il meglio al figlio più giovane, Elia. No, Eli, non usciremo insieme. Appuntamento ad aprile. Dove sei, tesoro? Nessun cucciolo, sapendo che tua madre partirà entro febbraio. Non scherzate, non c'è persona più meritevole di Beatrice di essere in finale. Spegniamo le luci di casa e vinciamo. Con riferimento alla persona che ha reso tutto così complicato, o come direbbe la madre di tutti gli youtuber. La considerazione di Luzzi sulla noia del mese scorso. È importante notare che il mese scorso Beatrice aveva manifestato la volontà di lasciare il gioco prima del suo termine, anche se poi ha cambiato idea non posso rimanere qui in queste condizioni. Per molteplici motivi. Ovviamente mi mancano i miei figli. E sono sicura che abbiano bisogno di me, anche se non lo ammettono. Mi hanno incoraggiato a restare, ma sentivo che non era la decisione giusta. Il più piccolo in particolare mi ha preoccupato molto, perché, come al solito, aveva bisogno di me in questo momento. Mi sentivo come se avessi già raggiunto il traguardo e non ce la facevo più. Ha dichiarato Beatrice a metà dicembre. Manca ancora molto tempo e la finale è ancora lontana. Altri due o tre mesi? Non sono pochi, soprattutto per i bambini. E ricorda che sono qui già da tre mesi.